Amici appassionati di smartphone, ben ritrovati qua sul canale, oggi parliamo della Oppo Band 2 Andiamo subito a capire cosa c'è nella confezione, ma soprattutto come funziona questa Band Vi faccio un po' una premessa, la classica Band che ha un sacco di longevità per quanto riguarda la batteria E ha una feature molto carina che vi consente di cambiare il quadrante con un tocco Ve lo spiego in questa recensione Confezione di ventita della Oppo Band 2 Un cavetto di ricarica, guardate i pin che sono magnetici, non comodissimi E una serie di manuali, quick wide e safety wide E andiamo avanti con, eccola qua, la Band 2 che ha un bel display AMOLED da 1.57 pollici Con pochi bordi, è un incrocio perfetto fra un orologio e una Smart Band E allora realizzata in vetro e policarbonato con un cinturino in TPU che non dà mai fastidio Tutto il corpo, pensate, cinturino e quadrante, pesa solo 33 grammi Quindi non vi accorgerete proprio di averla al polso È resistente all'acqua, si immerge, non si rovina e arriva fino a 50 metri di profondità Andando a sfilarcela, noteremo che il cinturino è praticamente quello di un orologio E una cosa che vi devo subito fare notare, a parte la griffatura Oppo È che a parte i sensori che rilevano sonno, battito, ossigenazione e i pin di ricarica Non abbiamo sui lati né microfoni né altoparlanti Quindi subito capiamo che questa band non ci consente di parlare al telefono 200 mAh che durano fino a 14 giorni In sostanza la caricate una volta, tra l'altro ricarica rapida Quindi in 5 minuti farete il 10% di batteria La ricaricate una volta e per due settimane non ci penserete più Purtroppo manca la luminosità automatica Quindi voi dovrete sempre regolarla su questo quadrante Quadrante che vi setta con tre tocchi, luminosità bassa, media e alta Se volete illuminare, usare una torcia in sostanza Lo potrete fare con un tocco E cambierà anche l'illuminazione, il segnale di SOS A parte entrare nelle impostazioni, comodissimo non disturbare Quindi potrete voi decidere di non ricevere le notifiche sulla band Oppure sto andando a letto, quindi abbassami la luminosità E con la rotazione del polso non ti attivare più Possiamo riattivare la band con un semplice movimento del polso Detto questo, impostazioni e quindi schermo, display, tocca per attivare Tocco singolo o doppio tocco, scegliete voi Alza per attivare Luminosità settabile qui su 6 livelli Quindi questa è la luminosità massima E vi dico che emana anche una bella luce Si vede molto bene sotto il sole Si può regolare l'intensità della vibrazione L'ho lasciata su media perché si sentono sempre Di nuovo troviamo non disturbare e sonno Che abbiamo già visto nei toggles E altre impostazioni Fra cui la modalità subacquea Ovvero la disattivazione del touch quando stiamo nuotando Swipe verso la sinistra Tutto il conteggio delle attività Guardate com'è facile capire l'attività Il sonno, quindi quanto abbiamo dormito Con i picchi di fase REM e fase normale La misurazione della frequenza cardiaca E se faccio swipe verso destra Tutta la sezione del menu Quindi allenamento Ce ne sono fino a 100 impostabili ragazzi Quindi tanta roba Quelli più famosi, quelli che usiamo di più Sono in prima linea Brucia grassi, camminata outdoor Camminata indoor Salto della corda C'è anche il tennis C'è il nuoto, nuoto in piscina Freestyle, yoga Insomma troverete tutto Anche la possibilità di aggiungere altri allenamenti Nella lista principale Insomma, come vi ho detto poco fa Non manca praticamente nulla E durante gli allenamenti cosa succede? Succede che non abbiamo il GPS Quindi dobbiamo solamente iniziare l'allenamento L'orologio si connetterà con lo smartphone Quindi terrà il GPS dello smartphone E poi i dati si sincronizzeranno Quindi partirà il timer E durante un allenamento Visualizzeremo la durata della sessione Le chilocalorie bruciate Possiamo mettere in pausa Stoppare Oppure far partire la musica Dello smartphone In quanto lui non ha L'altoparlante per riprodurre musica Una cosa intelligente che hanno introdotto Ovviamente è il riconoscimento automatico Dell'allenamento Quindi se state camminando con la band Al polso Dopo un po' che camminate ininterrottamente Partirà la camminata Troviamo di nuovo il sonno L'ossigenazione nel sangue La frequenza cardiaca La misurazione dello stress E quindi vi farà Non so come fa a capire la band Se siamo stressati o meno Me lo chiedo sempre Le attività quotidiane Divise anche per colore Quindi vi dice Quanti passi avete fatto Nella giornata Quanto vi manca Per raggiungere l'obiettivo giornaliero La gestione delle calorie La durata degli allenamenti Il numero delle attività Che avete svolto E la distanza media Percorsa Abbiamo anche il meteo Un meteo che viene ripreso Dallo smartphone La possibilità di aggiungere Una sveglia Quindi vibrerà la band E vi risveglierà al mattino Il cronometro Esercizi di respirazione Quindi andiamo anche a cambiare Quanti minuti Vogliamo che duri l'allenamento Un promemoria per l'idratazione E il controllo della musica Classico esempio Vado a premere sul play E parte La musica Dello smartphone Swipe verso l'alto Ragazzi Le notifiche Vi dico subito Non si visualizzano le faccine Questo è quello che succede Quando vi mandano Le emoticons Quindi tutto Un carattere sconosciuto Per la band E anche quando arrivano Le mail Purtroppo Non c'è La possibilità Di leggere la mail Ne abbiamo La possibilità Di rispondere Alla notifica Quindi se riceviamo Un messaggino Possiamo solamente Chiuderlo Leggerlo quindi E chiuderlo Ma non abbiamo La possibilità Di rispondere Stesso discorso Per la chiamata Possiamo solamente Riagganciare E andiamo a vedere Anche l'applicazione Un'app che a me piace Tantissimo I miei quadranti Sono tutti in fila Quindi li potrete Selezionare Ma vi dico subito Che c'è un trucchetto Che a me piace Tantissimo Allenamento e salute Da settare Secondo tutti i parametri Che più vi piacciono Regolerete poi Dal vostro account Anche quanto siete Alti E quanto pesate L'aggiornamento Del dispositivo E soprattutto A parte lo stato Qua di salute Che riepiloga Tutto quello Che avete fatto Quindi Fasi anche Del sonno Divise per Data Quindi giorno Dopogiorno Monitorerete Come vi siete Addormentati Bene male Quanto avete dormito Vedete io mi sono Svegliato tre volte Durante una notte Tornando indietro Tutto lo storico Dello stress Che può aumentare O diminuire A seconda della giornata Nella gestione Dei quadranti Ci divertiamo tantissimo Perché a parte Che l'applicazione È ricca Di quadranti Quindi sarà possibile Ad esempio Installare un quadrante Animato Con animaletti Paperelle Galline Gufi Eccetera eccetera Possiamo andare a Usare Diciamo Quadranti Più o meno Moderni Giovanili Con faccine Movimenti Vari eccetera eccetera Un pochino più retro Ma una cosa Che a me è piaciuta Tanto Sta nella parte Ricordi sul polso Perché vedete Questo più Questo più Vi consente di accedere A tutto il contenuto Dello smartphone A livello di immagini E andare ad aggiungerle Io ne ho aggiunte tre E possiamo cambiare Anche il colore Dell'orologio Sull'immagine Sul quadrante Vi faccio vedere Che Questa è un'immagine Che io ho impostato Con un semplice tocco Quindi senza andare A fare tanti giri Aprire l'app Tengo premuto Niente Con un semplice tocco Io posso andare A cambiare I quadranti Che io ho selezionato Quindi fate una carrellata Di dieci Voi con un tocco Cambiate il quadrante È veramente comodo Perché c'è una personalizzazione In questo modo Alta E anche molto semplice E allora cari appassionati Secondo voi Quanto abbiamo speso Per portarsi a casa La Oppo Band 2 Servono di listino 69,99 euro Ad oggi si trova in offerta Sui 55 euro Che dire È la fusione perfetta Fra l'orologio E la Band Quindi non è Band E non è orologio Sta nel mezzo È un ibrido E come ibrido Va intesa Nel senso che Non potrete fare le chiamate Non potrete ascoltare musica Dall'altoparlante Non ha il GPS integrato Non ha l'NFC Quindi non potrete fare i pagamenti A cosa serve allora Un oggetto del genere Serve per monitorare L'attività fisica Per capire se stiamo bene L'ossigenazione Lo stress La frequenza E La misurazione del sonno Senza accorgersi Di avere una Band Quindi niente al polso In realtà c'è Ma con 33 grammi Difficile Accorgersene E uno spessore ridotto Ma soprattutto Un'autonomia lunghissima A me Questa Band Non è affatto dispiaciuta E a voi Fatemelo sapere Vi aspetto Fra i commenti Grazie per l'attenzione E noi ci vediamo presto Con nuove recensioni Mi raccomando Iscrizione al canale E seguite Offerte Smart Italia Ci sono un sacco Di codici sconto E offerte Su tutta la migliore tecnologia Trovate tutti i link Sotto al rettangolo del video Date un'occhiata Ciao